Cari amici, eccoci qui con un nuovo video, vi prometto quello di Michele Posa e Luca Franchini nel pomeriggio, perché dopo questo mi voglio sentire un po' di radio sul computer. Parliamo di UEFA Champions League, siamo arrivati ai turni preliminari di qualificazione semifinali, prima di arrivare ovviamente all'atto finale delle qualificazioni per accedere ai gironi. Allora, partite tra martedì e mercoledì, iniziamo con quelle di martedì. Dinamo, Ghieva, Zeta, Alkmar alle ore 19, Paox, Alonico, Benfica alle ore 20, Ghent, Rapid, Vena alle ore 20 e 30. Poi vedo quindi solo tre partite, il 15, il 16 avremo Omonia, Contro Stella Rossa alle ore 17, Ferenc, Varus, Dinamo, Zagabria alle ore 19, Maccabi, Tel Aviv, Dinamo, Brest alle ore 19, Karabag, Molde alle ore 19, Miggiciland, Young Boys alle ore 20 e 30. Quindi, vabbè, lo sapete, le squadre italiane già da qualche annetto, così tutte e quattro vanno direttamente ai gironi, per l'Europa League è un po' diverso comunque. Poi ovviamente arriverà domani anche il video sull'Europa League, perché credo già da mercoledì ci saranno le prime partite, perché diciamo i turni di qualificazione sono un po' diversi dalle partite dei gironi, che solitamente si svolgono al 90%, ma tutte più o meno al giovedì, tranne può capitare comunque l'eccezione. Quindi, per questo altro trancio di giornata è tutto. Noi su YouTube ci vediamo nel pomeriggio, dove credo che a questo punto l'ultimo video della giornata dovrebbe essere quello dedicato a Michele Posa e a Luca Franchini, ovviamente per ricordare del loro traguardo dai comandatori di wrestling in Italia, e per ricordare, visto che poi stasera e poi anche giovedì ci saranno le live sul canale di Michele Posa con lui e il bar del Godzilla, ovviamente ognuno a casa sua, ma penso che giovedì sarà una cosa fenomenale e straordinaria, anche se sembra il bar del Godzilla, la premata ditta Franchini e Posa che ha agliosa, non voglio dire la parola. Beh, io vi saluto cari amici, noi ci vediamo alla prossima. Buona Champions League a tutti. Ciao amigos, ciao.